Amici Nerazzurri di Mesagni, buongiorno. Noi stasera siamo pronti per assistere alla partita Inter-Lanzio. Ieri siamo stati ad Appiano Gentile a vedere l'allenamento della squadra e adesso ci troviamo a Lissone, nel Monzese. E siamo in compagnia del nostro amico, del nostro campione di calcio, Sandro Mazzoni. Io lo passo, ve lo passo così ascolterete quello che ci dice. Buongiorno a tutti e quindi siamo tutti a posto, di fronte c'è una maglia che è la fine del mondo, quella maglia lì. Io mi ricorderò sempre quando ci davano le maglie. Quando eravamo ragazzini le maglie erano maglie usate dai giocatori e rimandate tutte a piedi, i buchi, i rattoppi. Io la portavo a casa a mia mamma e gli dicevo «Mamma, fai una topu, ma che sia proprio a Zunno, lei non era a Zunno!» E dopo tornavo con queste maglie e non volevamo volarne. Solo che poi ce le riprendevano, passavamo di categoria, ci vedavamo nelle altre, sempre quella topu però. Quindi ci sentivamo addosso. La storia era bellissima. L'Azunno è quello che incanta. Non possiamo mai mollarla quella maglia. Un saluto a tutti. Andiamo in Puglia. Andate, 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 bevete. Andiamo in Puglia.